Sono molto felice di parlarvi oggi di intelligenza artificiale che di fatto è un tema che studio, utilizzo, sviluppo ed insegno da più di 30 anni e che è una tecnologia che è diventata pervasiva nella vita di tutti noi e ci servirà per migliorare la vita di tutti noi, nel bene e nel male naturalmente. In questi minuti vi parlerò del bene, non del male, perché sono fermamente convinto che una tecnologia come questa, come tutte le tecnologie, se utilizzate in modo corretto, responsabile, corretto per le nostre leggi e per la nostra etica, possa davvero fare bene alla nostra vita. Questo vale per tutte le tecnologie, ma vale ancora di più per l'intelligenza artificiale che nasce dagli esseri umani e impara a modellare la nostra conoscenza e la nostra esperienza ed è quindi estremamente vicina alla nostra vita. Ed è proprio per questo che il titolo di questo mio talk è L'intelligenza non è artificiale, perché credo fermamente che l'intelligenza artificiale non sia artificiale, ma sia il frutto dell'uomo, degli ingegneri che la progettano, di chi la modella e di chi ha la responsabilità di insegnare attraverso i dati, attraverso l'ottimizzazione di queste, le migliori aspetti che possono essere portati in un mondo artificiale. D'altra parte, l'AI, l'intelligenza artificiale, dove userò questo termine, non è soltanto ricerca, come sono abituata a fare all'interno dell'università, ma è pervasiva e è diventata una serie di prodotti. E probabilmente tutti noi lo sappiamo, ma abbiamo già migliaia di intelligenze artificiali che vivono attorno a noi, che influenzano le nostre vite. Vi faccio soltanto alcuni esempi per farvi capire di che cosa sto parlando. Pensate, per esempio, a tutto quello che utilizzate giornalmente nei calcolatori, negli smartphone, ovunque, tutte le suite di Google, per esempio, di Amazon o di tutte le altre grandi case costruttrici, che riconoscono il parlato, possiamo parlare con Siri, con Alexa, con Google Home, riconoscono il volto, ricostruiscono in 3D, in Street View o in Google Map tutte le nostre case e le nostre attività, riconoscono le nostre impronte digitali o analizzano i nostri testi. Tutto questo fa parte della grande categoria dell'intelligenza artificiale, così come fa parte della categoria dei sistemi di intelligenza artificiale le auto che guidano da sole e che quindi riescono a riconoscere il mondo esterno per dare un input alla guida e allo sterzo, così come purtroppo lo sono i droni che ultimamente sappiamo in Libia sono stati utilizzati come armi di distruzione di massa per riconoscere le persone. Ma non sono gli aspetti negativi che mi interessano, perché in compenso pensiamo a tutti i robot semplici e dotati di intelligenza artificiale che vengono invece utilizzati per i bambini autistici per poter imparare con loro e assieme a loro come interfacciarsi con le persone. Sono sistemi di intelligenza artificiale tutti i sistemi di fintech, di analisi dei dati negli ambienti di produzione, di ottimizzazione della produzione. Pensate per esempio a tutto il mondo del predictive analytics che riguarda la possibilità di analizzare i dati di produzione e che tutte le analisi di mercato ci dicono che nei prossimi cinque anni avrà un incremento fino al 21-22% dal punto di vista dell'incremento delle vendite della costruzione. Tutti questi esempi sono esempi classici all'intelligenza artificiale, ma forse l'esempio più importante in quest'ultimo periodo è l'esempio dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della medicina, per riconoscere nelle radiografie se c'è la presenza di covid o altre di malattie, ma per riconoscere in tutti i dati quello che sta succedendo e non solo dati immagini ma anche dei dati di genome e di tutte le altre informazioni che derivano dal mondo della salute. Questo è vero, quindi l'AI nasce per analizzare i dati, comprenderli, prevedere anche quello che sta succedendo, ma anche di immaginare perché c'è tutto un mondo che si chiama degenerative design dove l'AI viene utilizzato per esempio per progettare nuovi dispositivi, per progettare nuovi farmaci o anche per progettare, come stiamo facendo noi, per esempio nuove piastrelle o nuovi vestiti. Beh, insomma, vi ho dato una piccola interpretazione di che cosa può essere l'intelligenza artificiale attorno a noi e d'altra parte se vedete questo robot che sta girando, questo lo potete considerare anche soltanto un mezzo di locomozione, un oggetto meccanico che però si è dotato al proprio interno di un piccolo calcolatore come quello che è la testa, un po' di telecamere, di sensori, può essere effettivamente come la rappresentazione dell'intelligenza artificiale secondo la comunità europea ci dice un insieme di sistemi che vede nel mondo, acquisisce dal mondo, ha un comportamento intelligente, interprende azioni naturalmente per applicazioni specifiche. Ecco, ho utilizzato questi minuti iniziali per darvi un overview di quello che tutti noi consideriamo ormai l'AI dal punto di vista tecnologico e vorrei utilizzare i prossimi minuti invece per pensare a che cos'è adesso nella ricerca e che cosa potrà essere nel prossimo futuro. Ora l'AI è considerata uno dei più grandi mezzi dal punto di vista del software e dei modelli matematici per generalizzare da enorme quantità di dati, riceve in ingresso grandissime quantità di dati, li elabora e ottimizza i propri parametri interni che sono in generale dentro a delle reti che si chiamano reti neurali artificiali e che riesce in base a questo poi a dare delle uscite, degli output che sono simili a quelli che potrebbero essere un comportamento intelligente. Vi faccio due esempi concreti per essere più chiari. Un esempio importante è quello che si sta facendo per la previsione del cancro al seno al 5 anni, non solo di riconoscere in una mammografia se c'è ora un cancro al seno ma poter capire se questo evolverà in 5 anni in qualcosa di maligno e di benigno. Nel 2019 le MIT hanno fatto un sistema artificiale che imparando da decine di migliaia di immagini di mammografia è riuscita ad avere una previsione corretta del 30-32% rispetto al 18-20% di un essere umano, di un medico che è capace di fare questo. Non è ancora tanto però i risultati di un mese fa sono stati quelli che mettendo assieme i dati americani dell'MIT, quelli svedesi e quelli di Taiwan, si è arrivato ad un'accuratezza fino al 45%. Cosa ci dice questo? Ci dice che se acquisiamo tantissime grandi quantità di dati, sicuramente il sistema è in grado di generalizzare e di andare sempre verso una precisione maggiore. Vi faccio un secondo esempio che mi piace molto perché lo stiamo sviluppando nei nostri laboratori di Unimore. I sistemi adesso sono in grado non solo di capire il parlato ma anche di generare del testo, ad esempio generare il testo vedendo le immagini, come in queste immagini dove da una foto come questa un sistema è capace di dire che c'è una tazza con delle fragole tagliate e dei mandarini pelati, quindi qualcosa di estremamente concreto e come fa un sistema a realizzare questo? Ha imparato da tutte le pagine di Wikipedia, ha imparato da tutti i dati sul web, quindi la capacità davvero di generalizzare su grandissime quantità di dati. Bene, io concludo però questo discorso per dire che questa è la ricerca di oggi, è la produzione di oggi delle AI dalle grandi case costruttrici, ma se io vedo e spero quello che dovrà essere le AI domani, soprattutto in Italia e in Europa, io vedo invece le AI che dovrà essere assolutamente iper personalizzata, che dovrà essere individuale, che dovrà essere unica. Cosa intendo per questo? Io vorrei che in un futuro un robot mobile come questo che lavori con una persona anziana possa interagire con questa e se gli dice ho freddo vada direttamente a prendere la coperta preferita senza dover generalizzare su tutto quello che gli utenti possono avere in generale quando c'è freddo e che devono essere personalizzati sull'esigenza, sull'etica, sul modo di pensare dei singoli utenti, non solo nel mondo sociale ma anche nel mondo lavorativo. Pensate che nel mondo lavorativo noi avremo bisogno di sistemi di intelligenza artificiale capaci di conoscere il know-how di aziendale senza dover per questo condividerlo con quello di tutti gli altri, senza doverlo rendere generalizzato o federato a livello magari anche di altre aziende, di aziende stranieri o di aziende competitor, ma che dovrà rimanere il know-how all'interno di chi lo ha creato. Così come nella Cappella Sistina Michelangelo era capace di realizzare meravigliosi esseri umani tutti diversi, dovremmo essere in grado di realizzare meravigliosi sistemi artificiali tutte diverse e tutte specifiche per l'applicazione. Quello che vi ho detto è logico ma non è affatto concreto e non è affatto facile dal punto di vista di un calcolatore e abbiamo dal punto di vista della ricerca tantissime cose da fare. Questa è una lista di nomi, di tecniche che dovremmo imparare ad usare tutti insieme, quelle che in inglese si chiamano few-shot learning, cioè imparare da pochissimi esempi, continual learning, imparare in modo continuo, plastic learning, in modo adattabile e modificabile come fanno i nostri neuroni. Le reti neurali dovranno avere perfino la capacità di dimenticare o di adattarsi in base ai secondi concessi e di specializzarsi in modo compatibile con la privacy, con il copyright e con tutti i nostri valori. Capite bene che c'è tanto da lavorare ma sono abbastanza convinta che questo ci riusciremo e ci riusciremo anche in Italia e soprattutto ci riusciremo qua in Emilia-Romagna. Ricordiamoci che qui in Emilia-Romagna siamo all'interno di un ecosistema, la nostra Digital Valley dove abbiamo i supercalcolatori più portanti d'Europa, abbiamo un materiale umano, un patrimonio umano di grandi giovani capaci che stanno studiando queste tecnologie e quindi io sono assolutamente sicura che gli ingegneri di domani riusciranno a realizzare dei sistemi di AI e risollevarsi anche da questa pandemia come ha fatto Mirandola dal terremoto che è un esempio assolutamente per tutto, in un AI per tutto e in un AI anche per la medicina e per la nostra vita. Grazie a tutti.